Dopo le code e le proteste d'inizio settimana, l'amministrazione comunale di Casnigo corre ai ripari, semaforo lampeggiante per tutto il weekend, eppure di lunedì. Troppi cantieri aperti, i clienti scappano per il rumore e lo sfogo dei gestori dell'Hotel Europa di Clusone che lamentano lo scarso coordinamento nel programmare i lavori in piena stagione estiva. Domani a Rovetta una serata dedicata a Mario Merelli e al Nepal, il ricavato per sostenere l'ospedale voluto dall'alpinista di Lizzola. Buonasera, lo avete appena sentito. Dopo le code e le proteste d'inizio settimana, l'amministrazione comunale di Casnigo è subito corsa ai ripari. Il semaforo lungo la provinciale della Valseriana, al confine con Colzate, resterà lampeggiante per tutto il fine settimana, eppure di lunedì. Abbiamo intervistato il sindaco di Casnigo, Giacomo Aiazzi. Lunedì mattina il semaforo di Colzate sul territorio di Casnigo, complice anche il rientro di molti villeggianti che avevano trascorso in Valseriana il fine settimana, ha creato code, gli inevitabili disagi e anche qualche protesta. L'amministrazione comunale di Casnigo ha deciso di intervenire. In che modo? Abbiamo pensato di lasciare per tutto questo weekend, fino alla giornata di lunedì compresa, il semaforo lampeggiante sul giallo, che vuol dire che da Colzate ci si può immettere con la dovuta attenzione, dando la precedenza ovviamente alla strada provinciale. Abbiamo fatto questo proprio perché si è verificato quest'anno con l'intensa calura un aumento del traffico dalla valle, che scende la mattina dalla valle, dalle località di villeggiatura verso il capoluogo. Senz'altro questa è una soluzione tampone, vedremo quali altri problemi o disagi possono sorgere con questa situazione e cercheremo quindi di trovare una soluzione di incompromesso che soddisfi un'esigenza e l'altra. Se questa soluzione si rivelasse soddisfacente la potreste adottare poi per il resto dell'estate? Senz'altro se bastasse questa nuova modalità operativa del semaforo a risolvere la situazione la adotteremo senz'altro per tutto il periodo estivo o comunque nei periodi in cui sappiamo che c'è un aumento di traffico verso le località di villeggiatura. Poi ovviamente si può tornare alla situazione di normalità una volta finito questo periodo estivo. Ci sono turisti alle prese con le code e altri infastiditi dal rumore dei cantieri, tanto da far le valigie e andarsene. Succede a Clusone dove i lavori in corso attorno all'Hotel Europa stanno mettendo in difficoltà i gestori dell'albergo che lamentano lo scarso coordinamento nel programmare gli interventi in piena stagione estiva. Spazio all'intervista. Allora come sta andando la stagione qui l'Hotel Europa? Bene, non possiamo lamentarci, tolto il perché vi abbiamo anche chiamato, essere circondati da vari cantieri. Noi impieghiamo tutto l'anno per cercare il cliente da portare a Clusone, dato che si parla molto di bandiere arancioni, la qualità del turista e del turismo clusonese. Poi quando riesci con grande fatica a portare nel nostro albergo, e parliamo di più di 100 persone, poi sei accerchiato dai cantieri, che ho un grande rispetto, gente che sta lavorando, stanno costruendo, stanno facendo. Ma io dico sempre, 20 giorni prima, 20 giorni dopo, per me fa la differenza perché mi salva la stagione. Io ho una lotta continua con i nostri clienti che ti dicono, ma ragazzi non si può stare in albergo 20 giorni, 15 giorni, quello che è, pagando dei soldi ed essere circondati dai cantieri, pur rispettando il lavoro degli altri, ma signori vendete voi il prodotto di Clusone come un prodotto di qualità, un paese tranquillo, quando invece è peggio che essere nel Brox, parlando dal punto di vista del rumore e anche della poca comunicabilità che c'è stata nei nostri confronti da parte di chi doveva fare questi lavori. A parte il cantiere di fronte del Mirage, che quello è evidente, lo sapevamo già, però bene o male, appena noi abbiamo fatto presente i rumori, subito si sono mossi sia i vigili a fare una notifica, sia l'impresa, effettivamente non ha più iniziato la mattina presto, ma inizia in un orario più decente. Però tutto di colpo ci si è aperto un altro cantiere subito sotto, senza aver avvertito nessuno, oltretutto con una ruspa che rompe l'asfalto, facendo un rumore esagerato ed è per questo che alcuni nostri clienti se ne sono già andati, altri ci hanno detto o risolvete la questione o noi ce ne andiamo. Tenete conto che abbiamo qui anche la scuola a calcio dell'Atalanta e perfino loro che sono bambini protestano perché giustamente dicono ma il rumore è continuo tutto il giorno. Premesso e ripeto con tutta calma, ho un grande rispetto di tutti i cantieri aperti, la gente deve lavorare e ha il diritto di lavorare, però ne ho anch'io il diritto di lavorare perché anch'io ho 20 dipendenti che pago e di conseguenza sono 20 famiglie. A questo punto io dico benvengano tutti i lavori che devono essere fatti ma bastava essere più coordinati e spostare di 20 giorni prima a 20 giorni dopo e noi la stagione e comunque tutte queste polemiche sarebbero state inutili. Voltiamo pagina, dovrebbero arrivare la prossima settimana i 30 profughi che saranno ospitati a Castione nella struttura di Villa Jesus. Ieri sera intanto l'assemblea organizzata dall'amministrazione comunale. Sentiamo com'è andata. Al telefono con il primo cittadino di Castione, Mauro Pezzoli, tentiamo di commentare la serata di ieri dove sono emerse anche tutte le preoccupazioni dei cittadini. Pezzoli, qual è il suo commento? Che siamo riusciti ad esprimere alla cittadinanza i dati di fatto di quello che era e di inquadrare quello che è questa emergenza. Quindi c'è stata la possibilità da parte di tutti di capire qual era l'esatta dimensione del problema e è stata data la parola ovviamente anche a tutti cittadini che avevano le legittime perplessità e sensibilità magari molto diverse. Ci sono stati alcuni momenti di toni accesi, molto accesi, come era prevedibile, ma ringrazio veramente la platea perché è stata data la possibilità a tutti di parlare. Quindi hanno ascoltato quello che io esponevo, noi sono stati ascoltati vari interventi e questo è sintomatico di un confronto che comunque è sempre positivo. Quindi quando si esprimono le idee è positivo per tutti. Quando è previsto l'arrivo di queste persone? Ho sentito il prefetto questa mattina per relazionarmi anche su quello che era l'evoluzione di ieri sera e la previsione è prevista per settimana prossima. Non c'è ancora una data precisa. Settimana prossima arriveranno questi 30 migranti richiedenti asilo e da lì poi partirà tutta una serie di informative. Quindi ho avuto assicurazioni da parte del prefetto e di Caritas che ci sarà un continuo scambio di informazioni tra il comune e chi gestirà queste persone anche per dare eventuali ulteriori informazioni alla cittadinanza che anche ieri sera mi ha sollecitato a tenere una massima trasparenza su questo discorso. La comunità di Clusone è in festa per Sant'Anna. Nel fine settimana le celebrazioni nel quartiere che ospita la chiesa. Domani sera anche il tradizionale lancio delle mongolfiere. Tantissima gente si è accorta in questi giorni passando per le vie del quartiere Sant'Anna che è in programma qualcosa di speciale. Ci sono i festoni, ci sono le luci che illuminano la chiesa. Difatti domenica prossima sarà la festa della patrona di questa chiesa, patrona Sant'Anna. Sant'Anna e San Gioacchino sono i nonni materni di Gesù, i genitori di Maria. Così questo non lo troviamo nel Vangelo ma nel protovangelo di Giacomo, Vangelo apocrifo, racconta appunto che i genitori di Maria si chiamavano Gioacchino e Anna. Questa chiesa che risale al 1400, noi troviamo i quadri che raffigurano questa santa e tantissimi altri affreschi che man mano la pietà popolare qui ha voluto mettere. Ogni anno il comitato Sant'Anna, ma tutta la gente che qui vive, vuole ricordare questo avvenimento, questa festa che vuole essere una preghiera, un'invocazione per tutte le mamme, per tutte le sposi, in generale diciamo per le famiglie, chiaramente non solo di questo rione ma di tutta la comunità. Il programma della festa è come ogni anno molto semplice ma intenso e significativo e queste sere la messa ma domani sera, cioè sabato, alle 20 e 30 la preghiera e poi la processione con la statua di Sant'Anna per le vie di questo rione. Domenica poi, coincidendo esattamente la festa il 26 con la domenica, eccezionalmente la messa delle 18 verrà celebrata qui nella chiesa di Sant'Anna proprio per onorare questa santa che è la mamma di Maria e per invocare proprio la sua protezione sulla nostra comunità e su tutte le famiglie. Sicuramente è un avvenimento che coinvolge tutta la nostra comunità parrocchiale e l'invito davvero a partecipare e anche durante, così normalmente durante l'anno, a fare una visita a questa chiesa che certamente per gli affreschi, le opere che contiene è di un notevole pregio. Ringrazio anche tutti coloro che ogni anno, in primo luogo il comitato, si impegnano per ravvivare, per rendere sempre più bella questa festa. Una serata per il Nepal ricordando Mario Merelli domani a Rovetta. Il ricavato dell'iniziativa andrà a sostegno del Calica Hospital, voluto dall'alpinista Di Lizzola e da Marco Zaffaroni. Sabato 25 luglio al parco di Rovetta, una serata per ricordare Mario Merelli e il Nepal. Ne parliamo con Raffaella, sorella di Mario. Perché avete voluto questo appuntamento? Allora vi ringrazio perché voi siete sempre sensibili alle iniziative di mio fratello già allora quando lui c'era. Abbiamo voluto questa serata o perlomeno l'hanno voluta i suoi amici Renata e Flavio e tutti gli amici di Rovetta perché Mario quando era in spedizione che tornava con i suoi filmati Renata e Flavio lo aiutavano a mettere insieme foto, filmati e quant'altro per poi proiettarle qua nella piazza di Rovetta. Non è mai mancato un appuntamento, ogni volta che loro gliel'hanno chiesto lui veniva volentieri. Mario con le sue spedizioni aveva sempre detto un giorno se riuscirò farò qualcosa per loro perché loro a me è andato molto. Nel 2008 Mario e Zaffaroni, l'alto alpinista amico di Mario, avevano chiesto di poter fare un presidio spedaliero ma non nelle valli dove l'alpinismo comunque c'è e quindi un po' di ricchezza porta ma in una valle dove non c'era nulla. È stata scelta la valle del Dolpo che è una valle nell'alto Dolpo molto povera. Nel 2009 organizzato Mario è giù per fare il cioio per fare il suo mi sembra il 10.8 mila l'anno anche poi che si è sposato però realizza il suo 8 mila e lui diceva il mio 10.8 mila più importante è stato proprio l'ospedale. Inaugurato questo ospedale nell'ottobre del 2009 l'ospedale a tuttora funziona a pieno ritmo. Ai tempi faceva capo a questo ospedale delle popolazioni che arrivava da cinque giorni di cammino. Adesso dopo l'avvenuta anche del terremoto arriva gente da dieci giorni di cammino per arrivare lì per avere cure. L'ospedale è un piccolo presidio che comunque ha un dottore due infermiere, un tecnico e quattro camere da letto dove poter ospitare le persone, i malati. Quindi anche questa serata noi volevamo proprio raccogliere perché è così, sensibilizzare le persone però alla fine è raccogliere i soldi per poter continuare questo sogno di Mario. Come si svolgerà la serata? Noi inizieremo con la merenda delle 16, una merenda per i bambini o per chi vorrà essere lì, una santa messa alle 18 che si svolgerà nella chiesa parrocchiale presieduta dal Don Severo che ha voluto questa cosa in particolare per dare un segnale cristiano e per ricordare le vittime del terremoto. Alle 19 ci sarà l'apertura cucine con piatti tipici, alle 19 e 30 un concerto, anche questa è una cosa molto interessante, Mr. Jack Academy. Mr. Jack Academy è un'accademia nata da poco tempo dove ragazzi di tutte le età, da piccoli a grandi, stanno imparando musica e stanno imparando a cantare sotto la guida di Giacomo che è il maestro di questa accademia. Alle 21 e 30 ci saranno dei filmati di Mario, delle sue montagne e in più ci sarà un filmato particolare proprio sul terremoto nepalese perché la Patrizia amica di Mario che seguiva Mario nelle sue spedizioni faceva capo, faceva da tramite per gli aggiornamenti e le cose col giornale e con chi lo seguiva. Era proprio, ha vissuto dal vivo questa tragedia del terremoto. Prendo l'occasione di Antenna 2 per ringraziare proprio tutti quelli che hanno voluto, tutti quelli che hanno aiutato la realizzazione di questa serata ma specialmente tutti quelli che parteciperanno a questa cosa qua che è importante perché aprire il cuore a un problema così grande come il Nepal è una cosa bella visto che poi le televisioni adesso non ne parlano più. Sono sempre più orgogliosa di mio fratello Mario che aveva capito quanto bisogno il Nepal aveva anche prima che arrivasse il terremoto. Adesso è il momento di una pausa. Al rientro andremo a Pisogne per scoprire com'è andata lungo Lagoloso e poi a Gorno per una mostra che coinvolge diversi artisti locali. A tra poco. Il centro di Pisogne ieri si è trasformato in una sorta di ristorante a cielo aperto per la quarta edizione di Lungo Lagoloso. Per noi c'era Andrea Filisetti. Piatti prelibati, vini pregiati, buona musica, un tramonto da cartolina e tanta tanta gente. Sono alcuni ingredienti della Lungo Lagoloso. Manifestazione giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Raggiunte le più rose aspettative degli organizzatori, sfiorati i 700 partecipanti. Sì, una grande soddisfazione. Quarta edizione di Lungo Lagoloso, una manifestazione che anche quest'anno ha confermato il successo degli anni precedenti aumentando il numero degli iscritti, mantenendo quindi la tendenza in alto degli ultimi anni. Pensiamo di aver sfiorato i 700 iscritti quest'anno, quindi un successo inaspettato. E' una formula che quindi si conferma vincente. Una formula che inizia con il ritiro del kit, contenente un fluto in vetro, le posate, per poi iniziare degustando un aperitivo e ammirando il tramonto sul lago, proseguendo poi con antipasto, due primi, formaggi, dolce e caffè. E' un secondo ovviamente. Un'attenzione particolare è stata data dai ristoratori, dai ristoranti ai piatti. Infatti sono tutti eccellenti. Un ringraziamento quindi valoro che ogni anno rispondono in modo positivo all'iniziativa e mettono in campo le loro energie, i loro sforzi, sia in termini di personale sia in termini di risorse economiche per garantire il successo di questa iniziativa. Un ulteriore ringraziamento va anche ai volontari della Proloco. Ancora una volta quindi il Lungolago della cittadina bresciana ha dimostrato tutto il suo potenziale, riconfermando Pisogne come un centro caratterizzato da un'alta vocazione turistica. Tanto gusto perché Pisogne è da gustare. Quarta edizione del Lungolago Loso, le edizioni precedenti hanno avuto un ottimo risultato. La Proloco, il merito è di essere attribuito unicamente alla Proloco di Pisogne in collaborazione con l'amministrazione. È un gusto, è un gusto di prodotti tipici ma anche un gusto paesaggistico. Pisogne ha questa bellezza, il patrimonio naturalistico paesaggistico che si presta anche a questi tipi di manifestazioni per valorizzare le attività commerciali locali e allo stesso tempo per far gustare degli ottimi piatti dell'inogastronomia locale. Si potranno ammirare ben 99 opere all'interno della mostra Artisti sul Serio che apre domani a Gorno e c'è anche un allestimento a Lizzola. A Gorno è in programma una mostra di artisti locali, giusto Borlini? Sì, verrà inaugurata sabato alle ore 18 la mostra itinerante Artisti sul Serio, giunta alla sua undicesima edizione. Verrà ospitata presso il Polo Scolastico di Gorno in Via Madonna e ha avuto il coinvolgimento di oltre 35 artisti locali dell'Alta Val Seriana. Quest'anno un'edizione abbastanza inedita perché ci sarà un'apertura straordinaria anche a Lizzola e quindi gli antipodi dell'Alta Val Seriana vengono rappresentati e sono rappresentati attraverso questa mostra. Da una parte Lizzola, dall'altra l'apertura ufficiale che si terrà a Gorno. Come detto sabato alle ore 18 ci sarà l'inaugurazione dove saranno presenti tutti gli artisti che hanno partecipato e aderito a questo evento, che sono artisti che si sono dilettati in diverse arti, dalla pittura alla scultura alla poesia e che metteranno a disposizione, metteranno in mostra quanto hanno prodotto a tutti coloro che desiderano vedere queste opere tutte le sere dalle 20.30 alle 22.30 e tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 17.30. E questa è l'undicesima edizione di Artisti sul Serio? Sì, si tratta di una mostra itinerante che in questi anni ha coinvolto diversi comuni dell'Alta Valseriana e infatti quest'anno vede il patrocinio anche di diversi enti locali come il Comune di Parre, di Piario, di Villa Dogna, di Oltressenda, di Ardesio, di Gromo, di Valgoglio e di Gandellino e nonché anche della partecipazione di Promo Serio in ambito promozionale, anche in ambito di coordinamento di questi interventi. La mostra sarà aperta fino al 9 di agosto. Ultima puntata prima della pausa estiva per la nostra rubrica Erbe e Salute. La dottoressa Antonella Agostini ci dà appuntamento a settembre. Buonasera a tutti. Entriamo nel vivo dell'estate. Oramai manca una settimana e poi arriva agosto e la maggior parte della gente comincia a organizzarsi per le vacanze. Quindi questa sera è dedicata a piccoli consigli per l'estate. Allora se avete deciso di andare in vacanza e in contemporanea durante la vacanza avete anche intenzione di mettervi in forma tipo andrò tutti i giorni a fare una bella gita in bicicletta? Allora mi raccomando cercate di andare piano in questo senso. Normalmente se non siete abituati e non siete allenati la prima cosa che vi può succedere è che vi vengono i crampi a livello muscolare. Quindi visto che fa anche caldo e potete soffrire di crampi da poco allenamento quindi un'eccessiva produzione di acido lattico a livello dei nostri muscoli il consiglio che vi do è usate dei sali minerali soprattutto il magnesio e il potassio. Li trovate tranquillamente in tutte le farmacie servono per reidratare i sali che perdete perché sicuramente suderete durante la vostra pedalata ma nello stesso tempo per evitare l'abbassamento di livello di questi due sali che vi può provocare dolori muscolari. Un altro prodotto che potete utilizzare per aumentare le vostre prestazioni a livello muscolare e che non è doping potrebbe essere un oligoelemento di rame. Il rame aiuta molto a lavorare la muscolatura questo non vuol dire che vi farà vincere la biciclettata di famiglia però soffrirete meno di crampi. A livello degli arti inferiori. Poi un altro consiglio se salite in bicicletta così per la prima volta e non avete mai pedalato in tutto inverno ricordatevi meravigliosi pantaloncini col rinforzo perché poi tutte le farmacie vendono le pomate anti emorroidi ma è meglio prevenire che poi doverle utilizzare oppure fare una bella cura col mirtillo nero che è un protettore dei nostri vasi capillari anche a livello anale. Quindi potremmo portarci avanti in questo periodo in modo che poi per agosto siamo pronti. Un altro consiglio che vi do se invece di andare in bicicletta decidete di fare delle belle passeggiate nelle nostre valli mi raccomando il tacco non utilizzatelo ma neanche gli infradito camminare in montagna con queste calzature è veramente sconsigliabile utilizzate calzature comode se sono nuove o poco utilizzate perché non siete abituati prevenite usate dei prodotti dei dispositivi medici anti vescica. Ne esistono diversi tipi sia sotto forma di cerotto che di stick in modo da potervi togliere le scarpe serenamente la sera senza lasciare i brandelli di pelle appiccicati. Portatevi sempre una puntura contro una pomata contro le punture degli insetti perché non si sa mai e comunque spruzzatevi o utilizzate qualche prodotto che tenga distante gli insetti durante le vostre gite. La crema solare è la prima cosa da utilizzare perché vi previene innanzitutto i danni da radiazioni ma anche per esempio l'herpes da sole o la scottatura solare quindi cercate diciamo di preparare lo zainetto della gita in modo da essere pronti per ogni emergenza. A questo punto dopo tutte queste raccomandazioni vi faccio una minaccia, vi tengo d'occhio per cui vi aspetto a settembre. Buona estate e arrivederci! Adesso una breve pausa, ci rivediamo per la parte finale del Tg. I programmi di Antenna 2 questa sera sul nostro canale principale. alle 20 il programma di motori griglia di partenza, alle 22.15 Italia Economia, alle 22.30 la seconda edizione del nostro Tg, alle 23.15 Decoder. Sul canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 un servizio Target questa sera dedicato alle festate. il canale sportivo 628, alle 20.30 il circuito Fosso Bergamasco, la corsa su strada, la gara di Selvino e alle 22.30 griglia di partenza. Proseguiamo poi con l'Almanacco, domani è sabato 25 luglio. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 21.04. La luna è al primo quarto, sorge alle 15.12 e tramonta alle 1.31 del giorno successivo. La Chiesa ricorta San Giacomo Apostolo. Infine le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi Lombarde, al mattino cielo più nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, schiarite anche ampie dal pomeriggio. Temperature massime in diminuzione. E anche per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie.